la lana dalla pecora al tessuto compie quotidianamente un tratto del suo lungo viaggio che al termine di questi procedimenti di minuziosa lavorazione sempre più moderni e sempre più perfetti da secoli la porterà al servizio dell'uomo così la lana conserva la sua importanza anche nell'epoca moderna grazie alla sua duttilità alla resistenza delle sue fibre alla sua capacità di adattarsi a tutti i colori a tutte le esigenze a tutti i gusti l'industria italiana in questo campo ha dimostrato di essere in grado di competere con ogni possibilità di successo sul mercato europeo come su tutti i mercati del mondo grazie alla qualità dei prodotti che escono dai suoi telai le stoffe italiane hanno conquistato il mondo con la vittoria in tutti i paragoni possibili e la prova è data da un semplice dato di cronaca il segretariato internazionale della lana ha deciso di istituire in 17 stati il marchio di qualità e la licenza numero uno è stata concessa a una ditta italiana il dottor salvi dell'ivs e l'ingegner aldo zegna sottoscrivono la licenza del marchio di qualità garanzia assoluta sulla scelta delle materie prime e sulla lavorazione l'industria italiana maggiore consumatrice mondiale di lana e fini riceve oggi un ambito riconoscimento grazie a tutti Grazie a tutti.